Iso Pirazam è arrivato in Europa nel 2013, rappresentando una nuova generazione nell'ambito della famiglia degli S.D.H.I. È costituito dall'anello pirazzolico, efficace sul patogeno, e l'anello benzonobornene, fortemente affine alle cere cuticolari della pianta. Una simbiosi perfetta. Ma cosa lo rende così unico sull'alternaria del pomodoro? A seguito dell'applicazione sulla coltura, Reflect viene assorbito velocemente dai tessuti vegetali della pianta, formando uno scudo protettivo resistente al dilavamento e ai raggi UV. La sua capacità di legarsi e distribuirsi all'interno dello strato ceroso della foglia ne determina le caratteristiche peculiari di un fungicida ad elevata attività preventiva e protezione duratura. Il ridotto tempo di carenza e l'ottimo profilo residuale consentono l'applicazione di Reflect in ogni momento del ciclo della coltura, permettendo una crescita redditizia in linea con le esigenze della filiera. Grazie.